Il calcio non è uno sport per chi teme le sfide. Non è uno sport per chi non sogna in grande. Non è uno sport per chi si risparmia. Non è uno sport per chi pensa di fare tutto da solo. Il calcio è il calcio. C'è un calcio che aspetta solo il tuo tifo. Mondiali di calcio femminile dal 7 giugno su Sky Sport.